Secondo una classifica pubblicata da Surfshark, la nota compagnia nirlandese attiva nel settore VPN e cyber security, solo in Italia e solo nel 2021 sono stati ben 11,1 milioni gli utenti che hanno subito un attacco hacker o un furto di dati. Praticamente quindi, considerata l'attuale popolazione dello stivale pari a circa 60 milioni di abitanti, stiamo parlando di più di un italiano su 5. E se ci foste anche voi in mezzo a questi 11,1 milioni? Perché attenzione, qui non stiamo parlando di utenti che hanno segnalato attivamente il furto, ma del numero reale e effettivo degli account trafugati, peraltro con tutta probabilità senza che nemmeno il loro proprietario se ne sia accorto, come poi capita nella stragrande maggioranza dei data breach. E per questo la mia domanda di poc'anzi. Ma tranquilli, per nostra fortuna esistono diversi metodi per appurare se si è stati hackerati oppure no. Alcuni semplici, altri un pochino più difficili ed altri ancora estremamente complessi. Ma oggi, nei prossimi minuti, andremo a conoscere insieme quello che è, direi indubbiamente, il più conosciuto, il più celebre tra quelli semplici. Vedremo insieme come funziona e come utilizzarlo a dovere. E soprattutto seguitemi fino in coda al video, perché lì parleremo anche di un interessante tuttavia ad esso correlato. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì, ore 12.30. Anzitutto spezziamo una lancia in favore del nostro amato stivale, perché sì, pur che 11,1 milioni siano una cifra decisamente corposa, di fatto siamo solo al dodicesimo posto della classifica. Dietro Stati Uniti, Iran, India, Russia, Francia, Brasile, Regno Unito, Iraq, Corea del Sud, Cina e Canada. Dai d'anzi abbiamo migliorato anche sensibilmente rispetto al 2020, dove la medesima classifica ci vedeva con un totale di ben 18 milioni. E mere soddisfazioni a parte, veniamo ora al nocciolo di questo video, ovvero alla questione account hackerati, uno scenario decisamente spiacevole nel quale ognuno di noi spera di non incappare mai, ma che purtroppo, come abbiamo già detto e come forse saprete anche voi in prima persona, è uno scenario davvero frequentissimo. E a tal proposito, anche se l'abbiamo già detto miliardi di volte, non pensate neanche per un istante di essere immuni da questa o da altri tipi di minacce informatiche, perché qui stiamo parlando di gente con le contronocciole davanti alle quali la vostra password di 10, 15 o magari anche 20 caratteri ha la medesima resistenza di un preservativo di carta pesta. Chiaro? Il sito di cui voglio parlarvi oggi, che forse già conoscerete se l'informatica vi appassiona, si chiama Have I Been Pound, raggiungibile all'indirizzo che vedete in sovraimpressione che vi lascerò ovviamente anche linkato qui sotto in descrizione. Grazie ad esso, come dicevamo all'inizio, è possibile verificare se i nostri dati personali sono stati in qualche modo compromessi, grazie al fatto che il servizio raccoglie e analizza centinaia di file così chiamati dump e pastebin relativi ad altrettanti database contenenti le informazioni su miliardi di account violati. Ma vediamo come funziona. Una volta collegate al sito web in Essere ci troveremo dinanzi a questa schermata dove ci basterà inserire il nostro indirizzo mail all'interno di questo campo e cliccare sul tasto Pound per vedere il risultato. Ma se prima di provare siete curiosi di sapere all'interno di quali liste il sito effettua la sua verifica, vi basterà scorrere appena più in basso nella pagina per vedere, sulla sinistra, l'elenco delle principali e più grandi violazioni registrate, mentre sulla destra invece le più recenti, ognuna delle quali, se ci cliccate sopra, vi riporterà una breve descrizione del fatto avvenuto, come ad esempio Facebook, quello che forse salta per primo all'occhio, nel quale, riportato come nell'aprile 2021, sia stato reso disponibile gratuitamente per il download un ampio set di dati di oltre 500 milioni di utenti, ovvero circa il 20% dei suoi iscritti, la quale violazione ha potuto scoprire l'associazione tra i numeri di telefono e le identità degli stessi, oltre ai nomi e ai generi, molti dei quali includevano anche dati di nascita, posizione, stato della relazione e datore di lavoro, mentre soltanto, si fa per dire ovviamente, 2,5 milioni anche l'indirizzo mail. Questo per dire, vigente, che con la sicurezza informatica non si scherza, è veramente una questione delicatissima, che può facilmente sfociare in enormi casini. Uno tra i più lampanti di quelli che hanno fatto più rumore, mi sembra che risalga al 2015, quindi pochi anni fa, il caso Ashley Madison, un noto sito web di incontri per adulteri, non adulti, adulteri, ovvero quindi una specie di versione losca di Tinder per coppie sposate, il cui furto e pubblicazione online di diversi milioni di account dei suoi utenti portò al suicidio di alcuni di essi per via degli scandali che si generarono. Oppure ancora più banalmente, senza andare, diciamo, in questioni così estreme, tutti quanti gli account mail e cloud, all'interno dei quali vengono tenuti i più disparati carnacci o foto personali di qualsivoglia natura, e sottolino proprio qualsivoglia natura. Per cui veramente gente, mi raccomando, non sottovalutate mai il mondo dell'informatica. E delle due, preoccupatevi prima che ciò accada, prendete tutte quante le precauzioni possibili e alla peggio, al limite, non vi serviranno mai. E ritornando a noi, sempre sulla pagina iniziale di HIVP, andiamo ad inserire il nostro indirizzo mail, per esempio fragolina94chiocciolagmail.com, perché oggi mi sento particolarmente fruttato, e clicchiamo sul tasto Pound per scoprire che questo indirizzo mail sparato totalmente a caso risulta ok, come potete vedere da questo banner di colore verde. Mentre invece, se utilizziamo l'altrettanto celebre cicciopasticciochiocciolagmail.com, o qualunque sia ovviamente il vostro indirizzo mail, ecco che invece in questo caso il sito ci avverte che la mail è presente all'interno di 27 data breach e 3 paste, ovvero i famosi paste bin di qui sopra. E se a questo punto siete curiosi di sapere dove effettivamente è apparso il vostro indirizzo mail, in quale data breach intendo, vi basterà solo scorrere più in basso nella pagina per vedere l'elenco completo e studiarveli con la dovuta attenzione. Per cui eccoci al barco, abbiamo analizzato il nostro indirizzo mail e scoperto che risulta bucato, ed altrettanto abbiamo analizzato anche dove e quando è avvenuta la violazione. E mo' che facciamo? A risponderci allo stesso sito web poche righe più sotto, specificandoci gli step da seguire per aumentare la sicurezza dei nostri account, ovvero anzitutto modificare le password, poi abilitare l'autenticazione a due fattori ed infine iscriversi al sito per ricevere notifiche su ulteriori data breach che conterranno il nostro indirizzo mail. Pienamente d'accordo sui primi due punti, in quanto è d'obbligo avere una password diversa per ogni account, sito web o blog del caso, e che rispetti però altrettanto i requisiti minimi di complessità, ovvero, come abbiamo già detto, almeno otto caratteri di cui almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un numero e almeno un carattere speciale. E non meno altrettanto attivare anche quella stramaledetta autenticazione a due fattori della quale abbiamo già parlato nel video ad esse dedicato, che vi lascio linkato sia qui sotto in descrizione che on screen, nel caso ve lo siate persi. Mentre invece, per quanto riguarda il terzo punto, ovvero l'iscrizione al sito, dei mustibus. A seguire diamo un'occhiata ad un'altra interessantissima funzione del nostro caro HIBP, ovvero la verifica delle password. Ebbene sì, perché anch'esso, come tantissimi altri siti ed applicazioni, ci permette di verificare la sicurezza delle nostre credenziali, semplicemente cliccando sul tab relativo in alto a destra e ripetendo la medesima procedura di poc'anzi, andando quindi a scrivere la nostra credenziale nel campo dedicato, per esempio fragolina94, e cliccando sul tasto Pound per vedere se il risultato sarà negativo o positivo, come in questo caso. Congratulazioni, fragolina94! E qui, anche se credo non ci sarebbe bisogno di specificarlo, ma nel dubbio non si sa mai, qualora HIBP vi notificasse che una o più delle vostre password risulta compromessa, volate come you say in volta la linea di partenza a cambiarla ovunque l'abbiate inserita, sperando che non sia troppo tardi. E in ultimo luogo, gente, come promesso il nostro consueto, tuttavia, che quest'oggi verte sull'argomento privacy. Un pochino di tempo fa stavo parlando di questo sito con una mia conoscenza, la quale ad un certo punto mi ha posto una domanda effettivamente più che calzante, ovvero chi mi garantiva che HIBP fosse effettivamente un sito autorevole e non uno scam, una truffa, la quale noi davamo spontaneamente in gestione in pancia le nostre mail e le nostre password, il che, a pensarci bene, è un dubbio più che lecito. Però tranquilli, la risposta è no. HIBP è un sito più che sicuro ed affidabile, tant'è vero che già dall'anno scorso collabora attivamente con l'FBI per prevenire i furti di password. Notizia peraltro verificabilissima ovunque su internet. Tuttavia, se questa non vi bastasse come motivazione e foste degli inguaribili curiosi come il sottoscritto, venite con me che diamo un'occhiata alla sua struttura di comando. L'uomo alle spalle di tutto è Troy Hunt, classe 1976 ed esperto di cyber security e data breach, Microsoft Regional Director dal 2016 e dal 2011 Microsoft MVP for Developer Security. Insomma, non proprio l'ultimo degli arrivati. A questo poi si aggiunge il fatto che l'invio delle nostre password ai server di HIBP avviene tramite l'utilizzo del protocollo ASH1, ovvero sia una versione oramai conosciuta e superata della criptografia ASH, ma ancora largamente utilizzata in quanto standard federale negli Stati Uniti. E se non avete mezza idea di quello che ho appena detto, vi rimando al video dedicato alla blockchain all'interno del quale abbiamo anche parlato della criptografia ASH, spiegando bene o male, anzi abbastanza nel dettaglio, di che cosa si tratta e il quale, se vi siete persi, vi lascio come sempre linkato sia qui sotto in descrizione che on screen. E rimanendo ancora per un attimo sulla questione privacy, se qualora foste voi, giustamente, mi viene da dire in questo caso, un pochino più paranoici del normale e comunque non vi piacesse l'idea di dare in mano a chissà chi le vostre credenziali, sappiate che esiste un trucchetto non comodo e nemmeno tanto semplice, ma che se masticate qualcosa di informatica potrebbe stuzzicarvi. Ovvero, invece di inserire la vostra password per intero, potete scriverne solamente alcuni caratteri, eseguire la ricerca, e se il risultato è positivo, nel senso che viene rilevata una breccia in essa, scorrendo in basso nella pagina potrete trovare, soprattutto scaricare, i file zip contenenti l'elenco delle password che riportano al proprio interno i caratteri che avete digitato precedentemente. In questo modo, eseguendo dopo il download una ricerca manuale all'interno di essi, potrete scoprire offline se la vostra password effettivamente figura all'interno di essi. E con questo, gente, chiudiamo l'episodio di oggi a tema cyber security. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero, vivamente, con interesse. Ma ditemi, conoscevate già HIVP? Lo avevate mai utilizzato? Eravate al corrente della sua funzione di verifica delle password? E soprattutto, vi è piaciuto il trucchetto finale? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spalliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.